e salve a tutti ragazzi bentornati da alex54 oggi ragazzi siamo qui per la moto 3 e moto 2 la moto gp non ci sarà perché non so perché hanno fatto solo moto 3 e moto 2 la moto gp la potevano pure fare ma non la fanno per causa coronavirus quindi non la faranno noi comunque ce la vediamo lo stesso moto 3 e moto 2 e ragazzi vedo se riesco a recuperarvi la partenza le 10 posizioni le 10 posizioni la partenza vedo se riesco a recuperarli quindi se non ce la farò andiamo subitissimo al video della partenza ragazzi allora vi voglio far vedere ovviamente riprendo anche il il semaforo con la partenza e partono 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 ancora giure dall'alto senso venencio diverto perché non si è riuscito a vedere la diretta su sky la sto rivedendo ecco la prima curva c'è una caduta no non c'è una caduta ecco ecco le altre curve e ci vediamo fra una decina di giro allora ragazzi è l'ultimo giro infatti hanno tolto tutto quanto questo è la ecco l'ultimo giro sono tutti 10 posizioni foggia italiano e poi ecco sono tutti fanati è il 17esimo è l'italiano appena fatto l'incidente nel senso si è attaccato con l'altro che si è fatto l'incidente cioè torni al bollino al 14 ecco allora vediamo come va a finire ecco ultima curva ultimo settore ma tra l'altro ultima curva ed ecco vince arenas quindi ragazzi ci becchiamo dopo tanti festeggiamenti ci vediamo dopo Allora ragazzi, ma sia che deve essere terzo sopra i limiti di pista e viene penalizzato di una posizione, quindi diventa quarto, quindi sale Oguna sul podio, terzo, quindi ragazzi ci becchiamo poi in moto due. Ragazzi, non percato, veramente mi dispiace per voi, non vi ho fatto vedere la moto tre, cioè la moto due perché la moto tre ve l'ho fatta vedere, ha vinto comunque un cinese, Nagashima, una cosa del genere, però secondo e terzo italiano, non è Marini ma è Baldassari e ne è Bastianini, questo no, secondo Baldassari e terzo è Bastianini, mi dispiace. Però ragazzi ho avuto un impegno, non sono stato a caso, ora sono tornato, mi dispiace veramente, quindi il video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete la campanella per non perdere nessun altro video e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao ciao!